Ciao a tutti e benvenuti su Diali.it Sono tanti gli atleti che coltivano la passione anche per altre discipline sportive. È successo in passato a campioni del calibro di Michael Jordan col baseball e Valentino Rossi con la Formula 1. È capitato recentemente anche a Gianmarco Tamberi. Che dopo le vittorie nel salto in alto ha giocato per qualche minuto a basket a Siena per un amichevole. Leggete il racconto e chi sono gli altri campioni che hanno cambiato sport su curiosità sportive. Si è trasferito in Australia da ormai 5 anni e si è pienamente ambientato nel campionato di A-League. Stiamo parlando del centrocampista romano Jacopo Larocca che in un'intervista esclusiva ci racconta i suoi anni in Oceania. Durante questa esperienza ha vinto un campionato e una Champions Liga Asiatica disputando anche il Mondiale per Club. Tutti i dettagli sono nell'articolo di Italians. Non perdete l'appuntamento del prossimo TG di Mondiali.it Io ci sarò e voi vi aspetto. Un bacio dalla vostra Simona.